Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi il Super Pasqualone di Soiluna. Allora ragazzi, incominciamo subito dicendo che la scatola è così grande che non entra tutto nello schermo, non riesco a inquadrarlo tutto. Comunque adesso ve lo farò vedere così, poi la mia scrivania non è neanche tanto grande, perciò capitemi per piacere. Allora, direi di iniziare vedendo prima di tutto quello che dovremmo trovare in questo uovo. Allora, trovi sempre un braccialetto luminoso, una music bag e un super surprise egg con gioielli a sorpresa. E potremmo trovare gli auricolari pom-pom, la sacca a zaino per contenere anche i tuoi pattini, e poi il diario segreto con il lucchetto. Allora, sinceramente, se dovessi trovare mai uno di questi tre, vorrei trovare o il diario oppure questi auricolari, ce la posso fare, pom-pom, perché mi sembrano molto carini. Però ovviamente anche questa sacca è molto carina, solo che io ho tantissimi zainetti, quindi davvero non saprei cosa farmene. Forse diciamo fra i tre, quello che preferirei di più di più è questo. Comunque vi lascio qua sotto il link per acquistare, per acquistare questo super pasqualone. Ok, direi di aprirlo subito, quindi prendiamo le forbici. Ok, aiuto. Più o meno dovreste riuscire a vedere. Ok, allora, qui c'è il nostro uovo. Allora, come vedete anche l'uovo è molto grande, non riesco a inquadrarlo tutto. Comunque, aiuto, dovrei adesso riuscire a distruggere questi così. Ah, no, si può togliere, ok. Uno e due. Ok, vediamo. Allora, vediamo. Allora, ho trovato questi, questi, Bancho Balloons, che praticamente sarebbero dei palloncini che si usano come gavettoni, vedete? Comunque, è solo un'idea carina come per l'inizio della bella stagione, visto che ormai è arrivata la primavera. Magari, durante l'estate, li potrei anche utilizzare e magari farci un video per divertirmi con qualche amico. Ad ogni modo, direi di vedere l'interno dell'uovo. Allora, ho trovato appunto la sacca, che è, ok, è bellissima. Io avevo detto che ne avevo molte, però devo dire che questa è molto carina. Magari, apriamola subito. Vediamo. Allora, eccola qua. Essere unica. Allora, ci sono tante frasi molto carine, tipo super pattinaggio, tipo, sì. Poi, omq in questo caso, soy luna, insomma, carino. Mentre dietro è fucsia. Ok, allora. Mettiamola qui. E andiamo avanti. C'è poi quest'altra borsetta. Ah, sarebbe quella che, appunto, si dovrebbe, diciamo, cantare. Ci dovrebbero essere le canzoni. Allora, eccola qua. C'è appunto l'una, molto carina. Poi, qui, c'è appunto, come la posso chiamare, la cassa, insomma, per poter sentire la musica. Poi, se la apriamo, vediamo. Ah, qui c'è. Sì, è carina, devo dire. È molto carina. Praticamente noi dovremmo attaccare il nostro telefono, in modo tale da poter, in modo tale da poter sentire le canzoni che più ci piacciono. Comunque, devo dire che è un'idea carina. E penso che la userò, perché, insomma, una borsettina con una cassa, insomma, dove poter sentire la musica, con la quale poter sentire la musica, è un qualcosa di bellissimo. Ovviamente dovremmo mettere le batterie. Poi, allora, c'è questo braccialetto che si dovrebbe illuminare. Quindi, allora, vediamo. Wow, devo dire che è carino. Ci sono tutte queste faccine super belle. Vediamo. Allora, togliamolo. Ok. Ah, ecco, si illumina. Come vedete, si illumina la scritta Soy Luna, premendo questo pulsantino. Magari, ecco. Così si vede meglio. Dai, devo dire che è molto carino, però non so se mi entrerà mai, perché io, come sapete, ho un polso molto largo. Molto grande. Ce la posso fare. Aiuto. Ah, dai, entra. Il problema più che altro è metterlo. Carino. Adesso però il problema è toglierlo. Mi ucciderò, tipo. Ce la posso fare. Ecco. Tipo, la mia mano è morta, però ok. E infine, c'è appunto il nostro ovetto di Soy Luna. Vediamo. Vediamo. Dovrei riuscire ad aprirlo, ma giustamente non ho mai forza. E quindi non ci riesco. Ok. E' molto carino questo rosa. Adesso dovrei riuscire ad aprirlo. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Ah, vediamo. Oh, che carini. Oh, che carini. Tanti braccialettini. Bellissimi. Allora, qui ci sono delle istruzioni. Sì. I braccialetti. Ah, ok. Possiamo trovare dei charm, poi dei pin. Quindi, penso, siano delle spillette. I braccialetti, appunto. E poi delle decorazioni carine, insomma. Adesso dovrei cercare di legarle tutti. Ah, eccoli. Allora, ne abbiamo trovati. Due. Uno giallo e uno blu con questi fiocchettini. Molto, molto carini. E tre con queste palline. Uno rosa, uno magenta e uno arancione. Mettiamo anche questi. Dai, sono carini da vedere tutti insieme. Volendoli potrei anche indossare. Perciò, ragazzi, che cosa vi posso dire di questo uovo super pasqualone soy luna? È molto carino. Se siete fan della serie, vi consiglio di acquistarlo. Perché ci sono molte sorpresine. Per esempio, è comunque molto carino la sacca, la borsettina. Poi comunque, anche le altre sorprese che potreste trovare sono carine. Perciò ve lo consiglio. Vi ricordo del link che troverete qui sotto in descrizione per poterlo acquistare. Bene, adesso passiamo i saluti. Vi ricordo di più. Vi ricordo del video. Andiamo. Spera che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!